Scontro frontale tra due vetture questa sera venerdì 14 dicembre poco dopo le 19.30 sulla strada provinciale 222 tra Baldisterio e Castellamonte. Coinvolta in un incidente una Ford Ecosport condotta da una donna e una Chrysler Voyager con un uomo alla guida. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la croce rossa di Castellamonte, i carabinieri di Castellamonte e Ivrea, il bilancio e i due feriti. Scontro frontale 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 Grazie a tutti.